L'attentato di Nizza, il terribile attentato di Nizza, un tir si è scaraventato contro la folla, Nizza è praticamente l'Italia, Presidente cosa possiamo aspettarci? Nizza è Europa, Nizza è Occidente, quindi dire che Nizza è uguale a Italia, è perfetto come analisi geopolitica e soprattutto come analisi della situazione, del pericolo che tutte le comunità occidentali stanno vivendo, quindi anche il nostro Paese, ed è per questo che è necessario implementare tutte quelle operazioni già in essere di sicurezza preventiva che il nostro Paese sta vivendo. C'è un rischio concreto anche qui in Italia? Tutti i Paesi occidentali sono nel mirino, quindi anche l'Italia, non possiamo dire che noi siamo diversi, sicuramente per noi c'è un'attività che viene sotto a molte dell'intelligenza base, che sta dando buoni risultati, dobbiamo incrementare lo sforzo in quella direzione, non possiamo però dire che siamo sicuri che non accadrà sicuramente nulla, un rischio esiste, c'è una possibilità che qualcosa possa accadere, dobbiamo lavorare perché la possibilità non diventa una nuovabilità e assolutamente diventa una cosa concreta. La domanda che in questi momenti in tanti si fanno è cosa si può fare? Si richiama questo lavoro coordinato di tutti i settori del comparto sicurezza e si fanno tutti gli sforzi possibili, bisognerebbe dotare di maggiore risorse, sia il comparto sicurezza che il comparto intelligenza monte per poter acquisire nuove attrezzature, nuovi mezzi, quindi nuovi operativi, fare ancora più human della cosa fondamentale secondo me per combattere all'interno i possibili terroristi, dopodiché serve anche la consapevolezza da parte dei cittadini che se c'è qualcosa di in passi termini strano, che viene notato, è meglio fare una segnalazione in più che poi a riporre l'ordine che poi risulta essere inutile o superfora piuttosto che non farla e poi di avere le conseguenze drammatiche. Secondo lei bisogna cedere un po' di libertà per un po' di sicurezza in più? Diciamo che bisogna trovare un tutto compromesso, ben sapendo che il problema non è togliere la libertà ai cittadini, ma l'obiettivo è andare a prendere i terroristi, cioè noi dobbiamo cercare in un fiume che scorre di riuscire a individuare la bottiglia che inquina il fiume senza disturbare troppi pesi. In questo momento secondo lei le attività di intelligence bastano a fermare o comunque ad arginare il pericolo che questo fenomeno si allarghi? Noi dobbiamo renderci conto che la nostra intelligence fino ad oggi ha lavorato bene e ha dato dei risultati che hanno permesso di evitare che qualcosa accadesse nel nostro paese, però altrettanto dobbiamo renderci conto che siccome il numero dei soggetti aumenta, quelli da controllare che sono problematici, il numero dei luoghi da controllare aumenta quotidianamente, dobbiamo in conseguenza anche noi incrementare le risorse come dicevo prima per mettere in posizione più uomini, più mezzi, più attrezzature, per questa che è una guerra che vede in gioco la posta, la nostra libertà e il nostro futuro. Questa è una richiesta ufficiale che lei fa al governo? Io l'ho fatta varie volte quindi non è un problema di ridere, la rifaccio in questo momento.